Ciao ragazzi e ragazze, perdonatemi sono tutta struccata appena l'avanti, ma che testa l'unchio? Non guardate che sembra una strega, ragazzi, sei il dinosauro, il dinosauro, il dinosauro, benissimo, questo è Giuraxipà, siamo arrivati una volta al mese con, oh, cosa mi hai preso? Tutto per tutto, no ragazzi, tutto per tutto, ma ho detto che questi sono appena arrivati dal Bangladesh, dai Bangladesh, sono truccati questi qui, mi raccomando, forza, dai, mi raccomando, allora ragazzi, calma, tutto per tutto, ok, cominciamo con i numeri vincenti, i numeri vincenti, eccoli qua, allora, 32, uh, la nonna Carla, la ragosta, 52, uh, questo è il morbo di chipstops, benissimo, 22, i gemelli, i gemelli, tutti con il due finale? 28, il risotto, 26, la faraona, 56, la mutanda, allora, Cosa vuol dire quei x2, x3, moltiplicatore, vuol dire che tu, dopo si schiaccia, se lo trovi, allora, apriamo il primo numero, 45, niente, 46, niente, ragazzi, qui, 30, la barraonda, niente, questo anniversario, 34, niente da fare, 56, oh, c'è, non coprire il prezzo, ragazzi, fermi, allora, uno l'abbiamo, 56, 56, e uno, e allora, cominciamo, dai, vediamo già il prezzo, vediamo il premio, 56, saranno 10 euro, 10 euro, 10, 10, e già 10 le abbiamo recuperate, poi c'è moltiplicatore, però, eh, qui ci moltiplicano per che cosa, vediamo, no, no, fallo, perché poi lo riesco riprendere bene, moltiplicatore, per, 10 per, 1, 10 per, 1, 10, niente, che schifo, fai niente, andiamo avanti, va beh, dai, 10, dai, vai, allora, andiamo avanti, 25, il panettone, 23, il compleanno, il compleanno della Mirella, 16, i biancosarti, 42, il gilet, dai, il gilet, 21, la marioce, niente, vediamo cos'era per, è qui per 50, sì, va beh, ma scusate, vuol dire per 1, non metterlo neanche per 1, mette almeno per 2, no? dice per 1, di, vergognosi, che vergognosi, 44, i gatti, 3, 31, il 32, il kiwi, 54, l'arbicocca, l'arbicocca, 55, 55, cos'era che era? Il motorino, 48, è morto che è blata, è morto che stava barlando, guarda questo, per 20, allora, andiamo avanti, 38, 38, cos'era? Il picasas, benissimo, 41, è il ferè, 37, a scurbiate, 14, è il tiramisu, 17, Mirella con fuori le tette, niente da fare, per 100, che maledetto, allora, per 2, bonus, per 2, vediamo se viene fuori il bonus, 33, non c'è, Dani de Cristo, niente, non c'è, vediamo questo, 29, la bagna cauta, niente, per 10, eccolo qui, 49, 48, niente, niente da fare, 10 euro le abbiamo prese, ma cosa vuol dire, per 1, ma fai meno per 2, guarda, cioè, per 1, per 100, per 200, ma anche per 2, per 1, ma per 1 non esiste, è ovvio che 10 per 1 è 10, cos'è vuol dire, o meno che si sono dimenticati, 0 è per 10, hai cancellato bene? Sì, sì, io cancello, metti all'hotello 0, con il penarello, gli metti 0, metti 2, 0, vai a essere dietro, ma scurbi, ma non esiste più 1. Va bene, abbiamo recuperato i soldi del biglietto, bom, basta, noi siamo qui, purtroppo sappiamo già come funziona. Mi raccomando, massimo 10 euro, una volta al mese, adesso alla prossima. Cos'è che ha vinto quel, il ghiandolo là, 2 volte di fila, 2 grattevinci, ha preso 1, 100, quant'è che ha preso? Abbiamo sentito, a verissimo, no, verissimo, a pomeriggio 5, che un signore aveva preso un grattevinci e ha vinto 800 mila euro, dopo una settimana l'ha preso un altro e ha vinto 2 milioni di euro. Io ne ho preso 1 e me ne avevo fatto, ha vinto 10 euro per 1, 10 per 1, 10. L'importante è, vabbè dai, abbiamo recuperato i soldi del biglietto, al mese prossimo, un abbraccione, un bacione. Ciao ragazzi, con queste 10 euro andiamo fuori a cena. Dai, ma come si può a Peruno? Devo mangiare un panino. Ciao, alla prossima. Ma dai, Peruno, ma cosa vuol dire Peruno? Ma non esiste Peruno. Una vergogna, una vergogna, tutto per tutto e niente per nessuno.